Signor Presidente della Repubblica, sono molto onorato e molto contento di questo momento che si svolge qui alla sua presenza nel Palazzo del Quirinale. Prende la parola il Presidente della Repubblica. Desidero innanzitutto rivolgere un cordiale saluto a voi tutti e anche associarmi al ringraziamento che già ha espresso per l'accettazione da parte di ciascuno di voi di far parte di questa Commissione il Presidente Letta. Se in periodi e contesti politici così diversi il tema delle riforme istituzionali e delle modifiche costituzionali è riemerso, si è riproposto e è divenuto oggetto di confronto è perché in ultima istanza riforme, modifiche, adeguamenti, ripensamenti dell'ordinamento della Repubblica rappresentano un inconfutabile e ineludibile bisogno.